Il Cosenza davanti al proprio pubblico per confermare il terzo posto, la Paganese invece per realizzare un clamoroso blitz esterno, la sfida dello Stadio Marulla chiude così il nono turno di Lega Pro. Cosenza in campo con maggior spregiudicatezza tattico, organizzata con maggior vigore da mister Giorgio Rosselli all'ultimo turno di squalifica e sostituiti in panchina dal fidato vice Stefano De Angelis. Serato ideale quindi per giocare a calcio, ma il primo tempo non regala molta emozione ai 3000 spettatori. La gara è così sbloccata dalla Paganese che al 62esimo va in vantaggio grazie a un bel tiro di Cicerelli, abile con un tiro a fil di palo, a centrare lo specchio della porta battendo così l'incolpevole Perina. Cosenza così più offensivo con Baclay che entra al posto di Corsi e anche con un uomo in più. Brutto il fallo del centrale Alcibiede che entra su Filippini e costringe la Paganese a giocare una buona mezz'ora in 10 uomini. E su calcio d'angolo dopo pochi minuti è proprio Baclay dopo un batti e ribatti a colpire il portiere Marruocco e realizzando così il gol del pareggio, il primo per l'attaccante con la maglia rosso-blu. La Paganese si fa sempre più nervosa e all'ottantaquattresimo rimane addirittura il nove uomini per l'espulsione del portiere Marruocco che perde letteralmente la testa. Finiti i cambi così in porta va Silvestri e nel primo dei sei minuti di recupero il Cosenza centra la vittoria grazie a un bel piatto di Mungo ben assistito da Corsi. Tre punti liberatori dunque per un Cosenza ad alta quota in classifica.